Noi qui abbiamo circa oltre 150 stand per un totale di 350 aziende tra dirette e rappresentate quindi un numero notevole e una rappresentanza veramente nutrita per quelli che sono i settori che noi portiamo in esposizione. Stiamo procedendo bene per quello che riguarda la visitazione perché era una delle nostre preoccupazioni base, era quella di non avere poi una visitazione che rispondesse a quelli che erano gli ideali della manifestazione e invece gli operatori stanno rispondendo più che bene. Ne sono di tanti ieri, tantissimi oggi e anche nei prossimi due giorni prima di arrivare alla chiusura contiamo di fare qualcosa di veramente unico a livello di numeri. Balcando è una società di consulenza, io sono un avvocato in Albania, ho deciso di creare questa realtà quasi quattro anni fa con l'intenzione di agevolare i rapporti tra le imprese albanesi e quelle italiane. L'Albania rappresenta un grosso interesse per tutte le imprese italiane in questo momento, specialmente nel settore oreca. Infatti nel quadro di questa fiera abbiamo deciso di organizzare degli incontri B2B tra imprese albanesi e quelle italiane, c'è già da stasera un bel gruppo di ristoratori, di albergatori albanesi presenti in fiera e quali nei prossimi giorni faranno degli incontri con le imprese, con le aziende italiane qua in fiera e vedranno la possibilità di nuove aperture. Intanto la International Pizza Academy ha delle sedi internazionali in Svezia, Malta, Ibiza, Vietnam, Aruba e abbiamo delle sedi italiane. A Molfetta abbiamo la fortuna di avere la sede principale che comunque segue le attività di sviluppo in tutta la Puglia. La cosa bella è che in questi giorni stiamo realizzando dei programmi, abbiamo realizzato forse il più bel calendario di Masterclass che tutta la Levante Prof non ha realizzato in questa edizione. La cosa bella è che le aziende che credono in noi ci hanno dato subito la disponibilità, i nostri partner ci hanno dato subito il loro supporto in questa fantastica avventura. Grazie.